Nuovo obiettivo vai a dormire Stiamo anche un guardaroba? Ah beh abbiamo dei vestiti, cioè un cambio di vestiti soli, ok Alle 8 di mattina dai E' il flashback dell'incidente Non voglio andare, voglio andare a Pogo Ok il capo setto, andiamo a Pogo Altro buttissimo sto incidente Sei anni aveva, Lena Non voglio ricordarla così Oggi serve quel tipo quasi maggiorenne, pensate voi Un naso schiacciato sulla finestra che aspetta il mio arrivo O il buffo balletto che faceva Sempre lo stesso incubo Usciamo fuori E vediamo cosa ci attende Devo pensare ad altro Per fortuna la città è piena di distrazioni Che non possono sfuggermi E' vero possiamo anche rubare i soldi Fece un video anni fa su quanti soldi possiamo fare Su Watch Dogs in 10 minuti Facciamo tipo una cosa come 45.000 Profiliamo le persone Un giorno dovrò ringraziare il CTOS Basta violare Poca roba Conoscimento facciale Per avere accesso ai dati personali di chiunque Questo potrebbe essere un delinquente? No Qua c'è l'esplosione che magari eviterei di far saltare per aria Eh no no Non ci siamo capiti Arriva e fa vedere Io pensavo che ci saremmo incontrati qui Eh ok però è un'ora No No Non credo proprio Ok Eh sì Questo è davvero pazzo Ehi scusa Oggi non farà male a nessuno Mi basta tracciare la chiamata ed è mio Funziona così ragazzi Si potesse fare anche nella realtà Vabbè ci sarebbe tipo una violazione di diritti Assurda Grande E da queste parti L'occhio dovevai non farti scoprire Non lascia fare al profiler Ok Compensa della reputazione maggiore Ok Il bersaglio dovrebbe essere vicino Ho iniziato con 20 Prendo e li punto tutti al tavolo del blackjack Bam blackjack Ora ne ho 40 Dico Va bene Il 2% potenziale di vittima È vicino Lo sento Ora si parleranno sicuro Ehi Dobbiamo parlare Non c'è niente di cui parlare Abbiamo chiuso Rassegno Ti sbagli Non lo ammazza Devo fermarlo subito Guarda che grido Ti faccio vedere Non è finita Non è finita Va via Potevo morire Io Grazie Ma no perché ti mette riparo Va ciuffato vivo Che stai facendo Eh vabbè subito la tazza si iscride ragazzi E con la X corri C'è qua cerchio Mo lo prendiamo Lo prendiamo Lo prendiamo Lo prendiamo Abbiamo già guadagnato 10 metri 9 metri 8 metri Dai 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 Ragazzi che inseguimento però Criminale neutralizzato a posto Ma l'ha ammazzato Bancomat Che succede Se apri il bancomat Ah ritiri soldi Fantastico Ricompensa progressi Criminali rilevati Ah queste sono le missioni secondarie Ok Ti danno le macchine Covo della banda Convolgi criminali Indagini Ok perfetto Grazie a tutti Grazie a tutti